La visione di questo squisito trumò, squisito sia per le dimensioni, per la ricercatezza, per i dettagli, perché ogni arredo ha le sue peculiarità e da quali uno può evincere la capacità stessa dell'ebanista che l'ha realizzato. In questo caso il trumò ha una dimensione molto contenuta innanzitutto, quindi è un mobile che si può sicuramente inserire anche nelle case attuali. Di fatto la tipologia del trumò spesso è molto museale e molto imponente perché è realizzato per grandi saloni, per grandi famiglie, quindi mobile di rappresentanza di una famiglia. In questo caso entrarei subito nei dettagli. La cosa che spicca immediatamente oltre alla dimensione, il leggero movimento del fronte, quindi un fronte leggermente mossolo. La cariatide che si muove fino a terminare nella gamba arcuata, quindi anche questo è un dettaglio molto molto interessante, guardate che meraviglia. Tutto legno ebanizzato, quindi un mobile realizzato in noce, in pero ebanizzato e in radica di noce. Radica di noce che in questo caso viene utilizzata nel massimo del suo splendore, vale a dire in biglia aperta. Viene tagliata appunto nel mezzo, questo blocco di radica, e viene aperto quasi a sbocciare come se fosse un fiore per regalarvi quello che è un ulteriore decoro nel decoro. Quindi abbiamo oltre a questa bellissima ebanizzazione di cornicette, rarissimo anche, signori, questo oggetto, questa proporzione delle parti alte. Guardate che belli gli spessori, nelle parti alte sono stati volutamente, spropositamente ingrossati per regalarvi un ulteriore dettaglio. Quindi un fronte veramente veramente elegante. Questo mobile il massimo che si può chiedere all'ebanisteria Lombarda del 700, quindi un mobile molto ricercato, molto bello anche all'interno della cassettiera, guardate che meraviglia, un ulteriore gioco di linea con la parte convessa dei due cassetti centrali, mobile intatto, intatto, interni tipici del mobile Lombardo, quindi in acero. Molto bello anche il disegno del piano, un ulteriore dettaglio con una quadripartitura del volume. Passiamo pure alla parte alta per concludere l'opera, vetri originari al mercurio, molto bello anche il gioco interno dello scarabattolo, perfettamente funzionanti le maniglie e le serrature, quindi un mobile ideale anche per contenere delle vostre collezioni, che siano essi di ceramiche, di argenti, un mobile anche con una doppia funzione, può contenere e specchiare, quindi da anche profondità stessa a quello che è il vostro soggiorno, la vostra collocazione. Io vi invito veramente, signori, a vederlo dal vero. Questo è un mobile che inserite nella vostra casa, da prestigio, da eleganza, è funzionale, intatto, mobile intatto. Magari, tendiamo anche le dimensioni, in modo da poter facilitare poi anche quello che necessita poi di acquisirlo, di visionarlo. Le misure sono 249 cm appunto, quindi un'altezza molto inseribile anche nelle case attuali, con i soffitti di 270, diciamo che ha una facile collocazione, 127 è la larghezza e 54 è la profondità. Chiaramente poi con l'apertura dalla ribalta situata sul fronte, si arriva a un massimo ingombro di 82 cm. Chi volesse vederlo io veramente ve lo consiglio, per chi ama questo genere questo è il top. Grazie a tutti. Grazie a tutti.